Camigliatello Silano, domenica 27 agosto, è pronta ad accogliere la settima edizione della Sila Epic, competizione di mountain bike che porterà nella località della Sila Cosentina oltre 500 bikers provenienti da ogni parte d'Italia e non solo per partecipare a quello che si può ormai considerare l'appuntamento di mountain bike più atteso per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia. Una edizione inedita, come ci ha confermato Giovanni De Mecco, uno degli organizzatori. La vera novità di quest'anno è che sono dei percorsi totalmente nuovi, ridisegnati, con dislivelli diversi, percorrenza diversa, chilometraggi diversi, quindi abbiamo una Gran Fondo che è 47 km per 1.800 di dislivello e la Epic che è 94 km per 3.600 di dislivello. Una competizione è la Sila Epic che può annoverare per quanto riguarda le edizioni passate e partecipanti del calibro di Leo Pez, già campione del mondo e quest'anno ai nastri di partenza ci saranno numerosi aspiranti campioni del mondo come l'italiano Riccardo Chiarini. Però quest'anno questa Sila Epic, giunta sempre alla sua settima edizione, ha avuto un importante riconoscimento, ne vogliamo parlare? L'importante riconoscimento perché l'anno scorso facevamo parte del circuito regionale, quest'anno farà parte del circuito nazionale. Come tutti gli altri anni, veramente come gli ultimi due anni, saremo sempre nel circuito prestigio che ha la sua valenza e il circuito dei trofei dei parchi. Insomma, questa Sila Epic si colloca tra gli appuntamenti sportivi di Mundan Bike più importanti del Mezzogiorno d'Italia, lo possiamo dire? Sì, sì, è tra i più importanti del Mezzogiorno d'Italia.